Approfondiamo qualcosa sui nuovi integratori e oggi parliamo del MyD3 Activator, MyDeactivator. Che cos'è questo Deactivator? Sai, e ti ho già detto in un altro video, se non l'hai visto lo vedrai, la vitamina D3 è una delle più importanti vitamine che ci dà i migliori vantaggi di salute. È un regolatore, è un ormone che fa funzionare bene un sacco di reazioni chimiche in cui è coinvolta, si parla di 3-400 reazioni chimiche in cui la vitamina D3 è fondamentale per il funzionamento. C'è un problema che se tu metti nel corpo grosse quantità di vitamina D3, questa non trova i cofattori che gli servono per funzionare. Esiste in effetti un fenomeno negativo correlato a prendere tantissime vitamine se queste vitamine sono sbilanciate. Se tu prendi vitamine in quantità bilanciate tra loro, quindi butti dentro la vitamina C con il calcio e il ferro e tra di loro si aiutano, allora è difficile andare in un sovradosaggio dannoso. Ma se butti dentro tantissima vitamina D3, per esempio, senza accompagnarla da alcuni cofattori, in effetti crei un squilibrio al corpo. Siamo qui a creare lo stato ideale di benessere del corpo e ci troviamo a buttare dentro magari uno squilibrio, sarebbe paradossale, giusto? Non è quello che vogliamo. Ecco che il MyD Activator, oltre a contenere una dose che è pari alla RDA della vitamina D3, contiene anche le altre cose che servono come cofattori. Eccoli qua, sono qua i componenti. Contiene la vitamina K, in notevole quantità, e il magnesio. La vitamina K è la Mena Q7, è un tipo di vitamina piuttosto buona, di altissima qualità, e ecco qua che noi abbiamo dato al corpo la vitamina D3, un pochina, ma soprattutto i suoi cofattori. Questo Activator è quello che ti aiuta anche se metti nel corpo quantità più grosse di vitamina D3, quindi potresti prenderla MyD3 in grosse quantità, e uno o due MyD3 Activator, ed ecco che hai compensato tra di loro i cofattori. Adesso, quella grande quantità di vitamina D che inserisci nel corpo, viene aiutata dai cofattori dell'Activator. Non c'è molto altro da dire, semplicemente questo, quando uno prende molta D3, fa bene anche prendere del Activator. Se uno prende una, due, tre gocce di D3 al giorno, probabilmente non avrà grossi problemi che richiedano anche tanti cofattori. Anche perché ricordati che la vitamina K, il magnesio, il calcio, tutti questi cofattori, sono contenuti anche negli altri integratori che uno va a prendere. Quindi se uno prende il MyHealth, prende il MyEnergy, questi qua contengono anche dei minerali che aiutano. Volevo dirti questo qua, quindi ti faccio notare, e anche adesso mi faccio un po' bello, ti faccio notare come questi integratori si aiutano tra di loro anche nell'ottica di farti del bene quando li prendi insieme. Purtroppo è difficile spiegarlo alle persone questo concetto, ma l'idea che tu hai una cosa e tipo mal di testa e prendi un integratore e mi mal di testa, non funziona. Vende perché questa idea qua è nella nostra testa, abituati come siamo ai farmaci, ho un problema e prendo un integratore per quel problema, ma non funziona così. Il tuo corpo ha bisogno di 166 elementi per funzionare e se sei messo male, sei finito in una patologia grave, ne ha bisogno anche di grosse quantità, soprattutto di alcuni. Ha bisogno anche di essere seguito nelle fasi di riparazioni, ecco perché abbiamo creato Yango e ci sono un sacco di aiuti sul soggetto. Ma ragazzi, il problema qui è quello di dare tutto quello che serve al corpo e solo quello che serve al tuo corpo, perché è personalizzato, come diciamo sempre. Questo è difficile da capire quando uno vuole un integratore e di solito mi dice, ho quella roba là, mi dai l'integratore per quella roba lì? Eh ma lui non sa qual è il suo squilibrio metabolico e quindi io dico, sì sì ce l'ho, ho fatto il test, Yango è il test e sappiamo qual è l'integratore giusto per te. Tutto qua. Bene, quindi abbiamo spiegato che cos'è la vitamina D3, cosa sono i suoi cofattori, abbiamo fatto vedere quanto si aiutano gli integratori tra di loro ad essere assorbiti. Non ti resta da fare altro che prendere tanto activetro insieme a tanta D3 e tutti gli altri integratori che fanno un sacco di bene. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!